Prima campanella questa mattina per i 9.000 studenti di Chieti, tutti in classe senza mascherina, almeno per ora, però rientra l'insegna della normalità seppure relativa dopo due anni con severe restrizioni anti-Covid. Sono circa 4.500 gli alunni delle scuole di competenza comunale e altrettanti quelli degli istituti superiori di competenza provinciale. Qui siamo alla scuola primaria di Villaggio Celditacchieti, tanto entusiasmo tra gli alunni che si sono ritrovati e siamo stati accolti con una canzone per la rinascita che hanno intonato gli studenti della classe quarta. Ciao Viola, perché avete voluto iniziare il primo giorno di scuola con questa canzone? Perché noi questa mattina abbiamo voluto parlare cosa abbiamo fatto quest'estate e delle nostre vacanze, però ci dobbiamo ricordare anche che poco lontano da noi, certi bambini non le possono fare queste cose. Sofia, che effetto fa non avere la mascherina e guardare negli occhi tuoi compagni? È più bello perché comunque si può riguardare i visi e c'è da un effetto di libertà diciamo. Che sia un anno di speranza, dice il sindaco Diego Ferrara. La nostra amministrazione ha intercettato diversi fondi del PNRR e in particolare 4 milioni di euro per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli spazi esterni delle scuole. Altri fondi ci saranno per migliorare l'efficientamento energetico. Sono contento di rivedere i tuoi compagni? Sì, sono stato veramente contento. La dirigente scolastica Elvira Pagliuca ci racconta gli umori degli studenti in questo primo giorno di scuola. I bimbi sono rientrati contenti e sereni perché chiaramente non abbiamo più le limitazioni dovute all'emergenza Covid, quindi bimbi senza mascherina e siamo pronti anche per situazioni diverse che speriamo insomma non avvengano. Giorgia, tu vuoi mandare un messaggio al sindaco Ferrara? Che si potrebbe dipingere la nostra scuola. Dentro è bello eppure fuori dovrebbe esserlo. Un nodo per ricordarsi. Sindaco, adesso ha una grande responsabilità con Giorgia. Ho l'impressione di sì e di essermi inguaiato questa mattina.